Ciao a te, bentornati sul Final Fantasy VII e il Re Bird! Ma il suo cuore può guidarlo per hauntare le persone più grandi. Siamo speriamo che non si sviluppa un gusto per noi. Sicuramente avete visto il nostro newsletter, non? È pieno di fatti divertenti sull'altro cuore, sono abbastanza orgoglioso. Signor, non credo che il Condor sarà il show di oggi. Allora, potremmo dovremmo tornare. No, aspettiamo un po' di fatti un po' di fatti. A me ha fatto un po' di fatti un po' di fatti. Non ho visto in un po' di tempo. Mi chiedo se dovremmo di avercivato qualcosa di cominciare dopo tutto. Potremmo, ho messo un posto sulla notizia per chiedere di gioco, ma... Beh, se stai ancora cercando dei volontari, sarebbero più di felici di aiutare. Ok, dimmi del Condor. È un grande vecchio cuore. Fa' un po' di fatti e una piccola isla che solo le stelle si tratta da qui. Ho anche salvato la mia vita, quando ero un po' di fatti, se puoi crederlo. Il Condor stava cercando per me quel giorno, quindi pensavo che dovrei iniziare a cercarlo. Non per l'altro, guarda i tappi sulla sua benedizione e ciò che non è. Inoltre durante la guerra, ero riuscita da alcuni trattori di Shinra, quando uno di loro mi ritrova in mezzo. Mi scopri al giro. Pensavo che mi era fatto, fino a che quella uccia mi fuori e mi fuori alla prossima città. Ha, 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 ha. A volte mi ricordo se mi ha fatto un po' di fatti. Non ho riuscito a rilasciare l'utilizzo dei miei piedi, infortunatamente. Oh, come lo nutrisci? Ok, d'accordo. Vabbè, figurati. Un Chocobo capace di scalare le montagne. Ed è questa. Esplora la zona di caccia. Ok, esplorerò la zona di caccia, quindi. Tra l'altro devo anche andare a fare... Sì, che sto a fare? Devo anche andare a fare Leslie. Poi c'ho delle cosettine da fare. Ah, percala miseria. Va bene. A dopo. Ciao. Ok. Ma è tutto vero? Non lo comprendo. Era solo un gioco. Ma, 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 chi sei tu? Ho vinto l'ultima partita. È tutto vero? È tutto vero? Lei? Potrebbe essere... che si è tornata? Lei? Non, è impossibile. È solo un gioco di card. Ok. ma perché oh mio Dio cosa ho fatto ma che sto ho dovuto raccontare loro loro hanno bisogno di sapere la verità ma per quale motivissimo ok tu hai dato una visione trascendente come io anche ero tu hai visto come se hai visto un ghost dicendo che sono ricordato della storia di Ledrel Balmon il creatore di Queen's Blood dopo che ha iniziato a vendere le carte ha parlato di ascoltare una strana e quindi tanto di aver rovinato la vita di molti ti ringrazio non c'è di che ciccio non c'è di che sono piuttosto confuso ok a dopo ciao la For Condor è vicina finisci la Chadlet eh bravo Barrett eh bravo Barrett sono qui che ci fai tu ma perché ma perché che è ma non c'è ma non c'è motivo ma dai bravo bravo capitano capitan sì abbiamo bisogno di aiutare ok di nuovo per l'ennesima volta a dopo finalmente e quindi ma perché che stront questo è il ganesce dammi sta cosa perché perché Capitano? Aspettiamo per noi, Capitano! A dove andate? La faccia della riconoscenza! Scusate quello che i Cavalieri ha detto? Questo tutto si è iniziato quando il Capitano ci ha dato. Sì, quando hanno raggiunto la libertà. Sì, erano abbastanza felici di questo, non erano? Sì, erano erano. Io ancora ricordo il peso delle chienze che mi aiutano a Ojo. E poi ho sentito quando qualcuno finalmente veniva e mi libera. Non è sorpresa che è diventato un simbolo di speranza. Ho capito, ma che c'è dentro? Allora, andiamo! Ok. Va bravo. Dov'è sto vestigio, porca di quella? Ok. 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 Ok, ne ho uno. Due. E basta. Non ne ho. Altri. Iai. Ok. Alla prossima. Ciao! Ok. Ok. Ma che diavolo hai fatto? Ok. Ok. Qua c'è una panchina. Perché sì? Ma perché, Kylia? Di sti palloncini. Ma c'è un motivo. Che c'è scritto là? Sì, guarda. Che c'è scritto. Mercenary Servicer Junon Branch. Kylia. Ma perché? Dove sto andando? Oh, di qua. Forse si va verso il... Come diavolo ti chiami? Sì, verso i minerali. Eccoti qua, minerale. Quanto prendiamo tutti i minerali possibili e immaginabili bellissimi. Scendiamo dal Chocobo. Ad esaminiamo sta cosa. Esaminata! Ok, ciccio. Ho esaminato tutto. Bravo, io. Cloud. Il neoticus. Voglio eliminare le più presse. Te pareva. La lista di caccia è stata aggiornata. Infatti ora c'è un'altra roba. Ed è esattamente là. Io odio tutto questo, quindi. Kylia. Dov'è che sono io qua? Vabbè, non sono esattamente in un posto vicinissimo. Insaliamo il tutto. Andiamo a parlare con Kylia fino a gonfiarla di botte. Che continua con questa storia del mercenario, del tuttofare e di tutto il resto. Dov'è? 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 Dov'è sei? Il scema. Dov'è Kylia. Dov'è Kylia. Da tutti sti palloncini. Perché? Che cosa è? Questa mi sa tanto di aria di botte. Eh sì? Oh, stai d'accordo. Oh, due pecca precauzioni sono mia. Ok, esatto. Kylie! Saluti. Kyrie, mercato di Junon. E tu sei. Oh, ragazzo. E qui mi sono all'excitato pensando che ho un cliente. Oh, e quindi per fare il viaggio qui per dire ciao, mercato. Non è un mercato di nulla. E non dimenticare di chiamare un mercato. Tu ti dimenticare un mercato. Oh, cosa è un mercato? Nessuno realmente lo sa. E inoltre, probabilmente questa messa può essere a te, mister. People? Scialbo Cupo Scorbutico. Si, sembra come un ticato a una bancazione. Allergies. Cosa? Calma! Questa cosa può parlare? Inoltre. Oh, non sei solo il ragazzo più amore? Hey, sai, ho sempre chiesto un figlio proprio. Venite, venite a mamma. Con mia mamma. Con mia mamma? Oh, oh, no. Ok, non so. 干i che. Ok, per ogni parte. È comunque come io paravo e lo conto. e quindi tipo ma perchè ma per quale motivo non lo voglio bravo ma perchè ma che deficiente che sei qua c'è moltissime cose che io ti prego male preso preso e ancora una volta preso ora siccome Kylie è una deficiente devo andare a picchiare queste cose che deficiente magia e craio guarda che cos'hai che sei tu ok cuoco e cuoco ma qua ma qua magia ignira boom ma finiscila tu come di nuovo mi piace a scoparmi di aspettare ma mi piace a strontà ma mi piace a scoparmi di aspettare mi piace a scoparmi di aspettare anche anche Sì Ok Ah, parca m***a Intanto sono l'unica da avere Sì Il fire Sì A quanto pare, sì, sono l'unica da avere Il fire Quindi va bene Sì Colpo dodge Ok, questo è l'ultimo vero? Oh, forza di quello Ciao Oh Oh, porca Che sei tu? Oh I got your mouth Vulnerabilità Cosa? Muscle bianca tra l'altro B? B vuol dire che c'è l'A? Ah Oh, porca Ok, intenzione Cosa 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 Quanti HP hai? Cosa 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 il vizio tramato il vizio eeeh shisha vulgar eeeh shisha ok oggetti stai trenta mega pozione per cloud eh si qualcosina pure per tifa oggetti cose ripenite per tifa eeeh e ha capito se c'ha spazi abita al limite salto mortale sulla murcia bianca abita sinergiche richiamo univoco giustizio ok quindi tu sei andato wow oggetti cosa ripenisce per red wow picchiamo male kylie io sto picchiando male si si meno male ok oggetti scoda di fenice red tremato il ciccio è un po' d'aja è un po' d'aja ah no ok no perchè non hai una pinta è un po' dica eh, now, now tremato tifa, picchialo, male tallonata red uuu, limita bene cose io ti bastono male eh, i tiramenti berretto da tutto fare, grandure da tutto fare parastinti da tutto fare non credo proprio spero proprio di no signori signori pensione e quindi speriamo di no nuovo livello barretto ok bellissimo barretto wow ah zitto ok qua ho bisogno di una panchina ho bisogno fisico di una panchina datemi una panchina, si ti prego ti prego giocobo ok bene dal momento che credo proprio che non dovrò fare altro che non dovrò fare altro cioè si ho da fare altro tantissime altre cose ma diciamo uh, la fotografia è vero diciamo che tutto questo taglia non poco la la storia si la taglia davvero tanto si ma comunque ti va la modalità foto modalità foto no è bellina eh qua giù no no che bellina mostri miei personaggi ok bene per oggi è tutto appuntamento al prossimo video ciao